Io l'ho conosciuto da bambino, il mio prossimo ospite, era proprio un bambino, però c'era tutto, c'era la determinazione, anche qui, c'era la forza, c'erano gli occhi, nei quali era già scritto il suo grande futuro. Arturo Mariani, vi prego, guardatelo ora e guardate questa fotografia, ci separano all'incirca, siamo andati a cercare vent'anni, vent'anni di tempo, però dico la verità, era piccolo, io ero sempre in stessa altezza, ma lui era piccolino e c'era tutto, c'era quello che sarebbe diventato appunto un calciatore, capitano della squadra Roma, amputati, difensore della nazionale, amputati, benvenuto, nuovamente applauso. Ciao Paola, grazie. Arturo, oltre al nostro incontro e a quando ci siamo visti, tu volevi già fare il calciatore, allora? Eh sì, già da lì, tenera età, il mio sogno era chiaro, era quello di giocare a calcio, sì, chiarissimo, nonostante le dicerie, le parole che ricevevo intorno a me, che ovviamente giocare a calcio ci vogliono chiaramente due gambe, nel mio caso, così dicono, così dicevano. Sì, così dicevano, mi piace ancora di più. Così dicevano. Così dicevano. E invece? Esatto. E invece no, secondo me la realtà la costruiamo noi e quindi quando ci concentriamo poi sul nostro potenziale, sulla nostra condizione, cominciamo a capire anche quello che possiamo fare. E quindi si ridimensiona anche la parola disabilità e mi piace come hai definito prima tu. Perché Arturo è fieramente convinto che oltre alla parola disabilità, che forse è la prima che venga, è una differente abilità, è quello che tu sei. Tu hai dovuto contrastare persone, pensieri e condividere una tua condizione da appena nato, praticamente, da piccolissimo e questo non ti ha mai vietato di giocare a pallone, andare in oratorio, ti dovevano rincorrere per riuscire a prendere la palla, perché tu eri questo e quindi così vivevi e così vivi. Assolutamente sì. Nel corso della mia vita ovviamente ho vissuto tante difficoltà e a volte ho rincorso anche io e gli altri, quando volevo essere uguale agli altri in qualche modo e dicevo sempre Arturo senza una gamba deve rincorrere gli altri, Arturo senza una gamba non può giocare a calcio. Davo retta un pochino a quelle voci lì. In realtà quando ho cambiato le parole ho capito l'importanza delle parole, che costruiscono anche la realtà che viviamo. Ho capito che invece Arturo con una gamba sola può cambiare le cose, Arturo con una gamba sola, può giocare a calcio, può essere felice e lì sta l'unicità della persona secondo me. Sentite, tenerlo fermo non si può, queste immagini ve lo certificano. È una meraviglia, guardate. And it was called yellow. So then I took my turn Oh what a thing to done And it was all yellow Allora, meraviglia, meraviglia. Allora, volevi addirittura salire sul... Cioè, tanto pannolino così, piccolino e cercavi di salire sul muro, no? E guai a non pensare che ci siano state le difficoltà. Ma tu sei qui per raccontare la tua personale, con la tua meravigliosa famiglia, con la tua forza. Ti abbiamo visto con Papa Francesco, con la tua fede, ma la tua capacità di ribaltare la situazione. Cioè, l'hai detto e l'hai fatto. Sì. L'hai detto e l'hai fatto. Penso e sono convinto che dal dolore, dalle prove difficili che la vita ci mette davanti, ci sia sempre un rovescio della medaglia, no? Che tutti possiamo cogliere. Io sono nato con una gamba sola e questa è stata la mia sfida da trasformare. Ma in realtà, se riusciamo a trasformare la nostra visione, si trasforma anche la realtà. È un modo differente di vedere le cose. Sì. È un modo differente di guardare. Le stampelle che non... È la NASA questa, non sono stampelle. Sono parte di te. Sono parte di te. Tu le hai scelte preferite anche per il tuo gioco. Ora arriviamo al gioco del calcio, perché a quello stiamo arrivando, ma è tutto un discorso che concerne la tua vita. Le hai preferite a tutto il resto? Sì. È stato non semplice arrivare a camminare con questi strumenti, perché prima io considero quando uscivo di casa così, come mi vedi adesso, mi sentivo come nudo. E quindi abbandonare quella protesi, che nelle immagini si vede, che era dolorosa, scomoda, è stato un processo molto lungo e complicato. Però quella protesi era una sorta di protesi mentale. Era quella protesi che non mi permetteva di essere me stesso. E quindi nel momento in cui ho capito che dovevo uscire, essere nudo nel senso metaforico e cominciare a camminare con queste stampelle mi si è aperto un mondo. E ho cominciato davvero a volare lì. Se anche voi avete voglia di abbracciarlo, sappiate, è normale. È assolutamente normale. Allora, tu con queste stampelle hai giocato a calcio, hai cominciato a giocare a calcio, hai continuato a giocare a calcio, a giocare a calcio con tutti. Cioè, vorrei dire, me la fai dire questa. Voi avete due gambe, io ne ho tre. Esatto. Scusami. Non vuole sembrare mancanza di rispetto, anzi, hai fatto e sei l'emblema, sei una bandiera, di come si possa fare veramente tutto. Cioè, con quel sorriso che hai stampato sulla faccia si può fare? Assolutamente sì. E quella è la chiave fondamentale, no? L'approccio in qualche modo leggero, sorridente, che ti fa affrontare la vita con presenza, ecco. La vita con presenza. Tu sei un calciatore a tutto tondo. Sei uno che corre per giocare bene e vincere. Sempre. Il tuo rapporto con gli altri compagni di squadra, il, come posso dire, lo stare sul campo provando la stessa identica sensazione che avresti provato con due gambe. È un'emozione indescrivibile incontrarsi con altri ragazzi che hanno avuto poi storie differenti, perché io sono nato così, tanti altri ragazzi invece magari hanno avuto un'amputazione e in quel campo si mischiano e mescolano diverse storie. Queste storie che portano alla luce una forza pazzesca, che danno un messaggio. Solamente poi sei lì nel campo e ti diverti e punti alla vittoria, punti a fare gol, ma dietro tutta questa metafora del calcio che poi è la vita, c'è davvero un messaggio potente che non serve solamente a chi vive magari una situazione di diversità, ma soprattutto a chi ha perso quel contatto con se stesso, a chi ha perso quel contatto con la vita e penso che sia fondamentale vivere. Arturo sai, dovremmo, dovresti, dovreste, ed è il motivo per cui poi gentilmente tu hai accettato il nostro invito, dovremmo prendere tante di quelle lezioni di ripetizione, noi, noi più grandi, noi più giovani, noi che a volte sentiamo il mondo crollarci addosso, anche forse con una buona ragione, perché tutto questo sia, e poi dovremmo frequentare una persona come te per capire, non per dire guarda lui, no, per capire, perché è qui. Esatto. Cioè, è tutto qua. Esattamente. È quella la differenza. E tu sei maestro per tutti noi. Inutile dire che, grazie ai social, su cui Arturo è ovviamente attivo, è stata creata la squadra, la nazionale di calcio, amputati. Tu sei tifoso della Roma. Leggermente. 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 Nonostante, adesso lo faccio arrabbiare, la sua maglia nera con risvolto bianco, ma ovviamente è un dinese. È un dettaglio. No, stiamo scherzando, è chiaro. Grandissimo tifoso della Roma. Dove ti ha portato quest'amore per la Roma? A formare anche che cosa? Mi ha portato a formare, a fondare, a immaginare, a visionare, di creare la prima squadra della capitale per il calcio amputati, quindi la Roma calcio amputati. La Roma calcio amputati. Tutto ciò che vi sembri impossibile, intanto, qui ovviamente lo vediamo col capitano, perché è il capitano immancabile, il grande, Francesco Totti. Tutto quello che sembra impossibile non è impossibile per Arturo Mariani. Sì, lui è un supereroe. Siamo tutti quanti d'accordo. Lo state pensando? Io vi dico, è vero. È vero per suo padre, è vero per la sua famiglia, è vero perché lui è così. Ma guardatelo palleggiare con un signore che si chiama Vieri. Sì, signore, anche chi non conosce il calcio sa chi sia Vieri. Mi riferisco al nostro pubblico. Eccoti qua. Su sabbia. Su sabbia. È una delle cose più difficili del creato. Poi sulle stampelle... Stampelle, sabbia, Vieri, e tu che palleggi così. Stavo un po' in difficoltà anche Vieri, perché a un certo punto, guarda, si vede alla fine che si ritrova e dice, ma che faccio? E infatti gli è caduta. È meraviglioso. Allora, noi siamo alla vigilia della giornata per i diritti delle persone con disabilità o diversa abilità. Il primo libro di Arturo Mariani è Nato così, Diario di un giovane calciatore senza una gamba, edito da Croce Libreria. Il secondo libro, Vita Nova, libro di interviste. Insomma, alla vigilia di questa giornata tu sei la bandiera che sventola. È come se ci fosse sempre maestrale. Tu sei sempre lì a sventolare di come si possa riuscire, ma di quanto noi dobbiamo cambiare testa. Noi, tutti quelli intorno. Sì, c'è bisogno... Io ho proposto una parola che poi nascerà un'accademia che si chiamerà Accademia Proabile. La parola probabile in sostituzione di quella parola disabile come mancanza, come qualcosa in meno. Pro invece che dissi. Proabile. Ognuno di noi è probabile. Probabilità che ognuno di noi può sviluppare. Penso che bisogna cambiare innanzitutto la nostra mentalità. Sin dai piccoli loro sono più ricettivi, non hanno sovrastrutture, quindi capiscono la difficoltà che una persona può vivere, ma allo stesso tempo non creano distanza, anzi creano quello che noi chiamiamo empatia, ma nel vero senso della parola. Cioè non costruiscono un muro, ma fanno muro intorno... Esattamente. ...e danno una mano. Sì. Perché sono bambini, lo siamo stati tutti, diamo questa notizia ufficiale, basta solo che ce lo ricordiamo e questo già ci farebbe bene, no? Dovremmo tornare indietro, sì. Quindi tu aprirei questa tua accademia, sei quello che i più bravi definirebbero un mental coach e dall'altro che torna la mente, cioè tu aiuti tante persone, tanti ragazzi che, come tu dicevi, si sono trovati senza una gamba per un incidente, cioè che non hanno dovuto affrontare tutto quello che tu hai affrontato fin dall'inizio, ma da un momento in poi della loro vita. e tu sei il loro aiutante numero uno? Si posso definire così? Sì, possiamo definire aiutante, guida, specchio spesso dico, perché lo specchio ho ricevuto dai miei genitori, la mia madre, che quando parlavo con lei in qualche modo usciva fuori quello che ero davvero, non quello che percepivo di essere all'esterno. e oggi cerco di fare la stessa cosa con strumenti pratici e formazione qualificata, ovviamente. Cerco di accompagnare le persone a scoprire quello che hanno dentro e arrivare da un punto, capire intanto dove sono, capire chi sono, per capire poi dove andare, per capire dove direzionare la nostra vita. E oggi c'è bisogno, perché corriamo sempre e non ci rendiamo conto invece di quanto è importante vivere nel momento dove c'è tutto. Arturo, quando io ti guardo, penso, e questa frase me la sentite dire a volte, esiste un mondo da sempre pieno di mostri, pieno di cattiverie, pieno di persone tremende. Poi esistono quelle persone che fanno sempre andare la quota più uno per quelli buoni che vincono. Lui è così. Lui è quel più uno per la bontà che vince. E oltre a vederlo in questa, quello tutto a destra è papà, perché noi ci siamo incontrati. Voglio rivedere se c'è la foto con Papa Francesco. Papa Francesco, grande tifoso di calcio, grandissimo tifoso ed esperto. Che cosa vi siete detti? Ha apprezzato tantissimo. La frase che mi ha detto e che mi è rimasta impresso, ha detto prega per me, mi ha guardato negli occhi con una profondità pazzesca ed è rimasto lì. Ho percepito più che, perché poi lì anche per me l'emozione era tanta, quindi tremavo, tremava tutto, anche la gamba che non c'era. Cioè, era una cosa incredibile. Però è stato veramente importante questo confronto con lui, che ci ha dato quella spinta forte per avere fede, quella fede che è anche un abbandono. Ci sono tante cose che noi non possiamo cambiare, come la mia condizione, come la condizione di tante persone che vivono. E quindi dobbiamo lasciarci andare, dobbiamo affidarci. Questo è il senso, secondo me, di fede che lui poi trasmette nei suoi messaggi. Affidarci per scoprire poi anche quello che abbiamo dentro, quello che ci può riservare la vita. Vissuta come un dono, non come qualcosa che subiamo, come qualcosa che ci arriva. Siamo lì a lamentarci per questo, poi, perché sentiamo sempre che le pressioni esterne vengano contro di noi. Invece la vita avviene per noi. Cambiare questo tipo di pensiero. E Papa Francesco è stato un esempio. L'incontro mi ha dato una forza pazzesca in questo. Lui è la quota di maggioranza della bontà nel mondo. Io, signori, chiudo qui. Su questo primo piano lo chiedo al mio Alessandro Tresa su questa bella faccia di Arturo Mariani, che è la quota di bontà che salva la terra. Grazie. 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 Grazie.